Buongiorno, siamo finalmente in aeroporto e stiamo per andare ad Abu Dhabi, zona della mangia, noi abbiamo appena superato i controlli del passaporto, è pronta? Allora abbiamo scelto di volare a Pondiziaire e di provare questa nuova compagnia e vi faremo sapere che siamo stati condizionati. Siete tranquilla? Sei felice? Dove è che stiamo andando? Alla città dei ricchi. Stiamo partendo, stiamo partendo. Guarda, guarda che bello! Quindi tra un po' parto, stiamo, 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 stiamo per entrare. Ok. Stiamo a direttamente, 36. 36. Siamo decollati da tre ore e mancano da tre ore e mancano ancora quante ore? non lo so, cosa devi dire, devi dire qualcosa che stiamo quasi per arrivare. a Napoli! E allora siamo ufficialmente arrivati ad Abu Dhabi. E allora, piccolo riassunto. Siamo arrivati a Dubai. Siamo arrivati a Dubai. Ah baby, come to Dubai. Allora siamo arrivati a Dubai e niente, adesso ci prepariamo, andiamo a mangiare, ci faremo una doccia e andiamo a letto perché siamo stanchi e poi domani. Tardissimo raga! E allora, a domani! Ciao! E basta, si è fatta l'una. Si è fatto tardi, vero papà? Ora facciamo nina. E domani è un altro giorno. Salutiamo? Ciao! Ciao!